Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dei nuovi Gregory, modello Zulu maschile e Iade 33 femminile. Vediamone come al solito pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo parlando delle caratteristiche di questi zaini. Per quanto riguarda il modello Zulu maschile, esiste nella taglia 30, 35, 40 e 55 litri. Noi prenderemo in considerazione la 35 litri, che è il modello che ho provato, che ha un peso che è diverso da quello che viene dichiarato dalla casa sul proprio sito, in quanto pesa 1,6 kg e non 1,3 kg come indicato sul sito. Per quanto riguarda lo schienale abbiamo la solita tecnologia di Gregory chiamata Free Float, che poi andiamo a vedere come lavora. E infine per quanto riguarda il materiale in sé dello zaino troviamo un Ripstop 400D, quindi un materiale abbastanza importante. Nel modello femminile l'etraggio si presenta nelle seguenti misure. 28, 33, 38 e 53. Anche in questo caso abbiamo il materiale Ripstop 400D, abbiamo il sistema Free Float per quanto riguarda lo schienale e per quanto riguarda il peso di questo zaino da 33 litri, che è quello che ho testato, questo è di 1,4 kg. Iniziamo come al solito a parlare dallo schienale. Come dicevamo prima troviamo tecnologia di Gregory chiamata Free Float. In questo caso troviamo uno schienale a rete, con una rete che ha una tramatura anche abbastanza ampia e questo veramente le garantisce un'ottima traspirabilità. Noi l'abbiamo testato in giornate abbastanza calde e ci siamo trovati abbastanza bene. Aspetto che mi piace sempre di questo Free Float è che dà tanta libertà di movimento, sia per quanto riguarda le spalle che poi in generale poi tutto lo schienale segue molto bene la fisionomia del corpo. Quando facciamo determinati movimenti, soprattutto se magari troviamo delle catene o dobbiamo un mezzo a arrampicare, ci segue bene lo zaino. È un sistema avvolgente ma che non ci costringe nei movimenti. Per quanto riguarda poi la lunghezza, possiamo naturalmente andare a saltare all'altezza con un sistema molto semplice, è abbastanza modulabile e inoltre lo zaino sia nel modello maschile che femminile ha la doppia taglia, quindi SMLXL. Passando a parlare della fascia lombare, questo è composto nello stesso materiale di cui è composto lo schienale. Si tratta quindi di un materiale morbido, traspirante, confortevole e ben avvolgente. Per quanto riguarda lo scarico del peso, diciamo che ci possiamo portare più o meno 7-8 kg massimo. Mentre nel modello maschile arriviamo tranquillamente al 10-11 kg. Una cosa che abbiamo notato però sulla fascia lombare è che è particolarmente grossa. Per intenderci, se avete una circonferenza della vostra vita molto sottile, allora fate un po' di attenzione perché potrebbe essere che la fascia lombare sia troppo grossa e non scarichi bene il peso. Arrivando a descrivere la fascia lombare, qui troviamo due semplici task dove andare a porre degli oggetti. Uno sulla parte destra, uno sulla parte sinistra. Semplici, lavorano bene, ci sta dentro un telefono. E anche per quanto riguarda la chiusura sulla parte anteriore con la clip, anche lei lavora bene, nessun problema. La cosa che non ci ha convinto è che non ci sia neanche un elastico per andare a richiudere tutta la parte di cordame in eccesso e sballonzola davanti quando camminiamo. Abbastanza fastidioso. Per quanto riguarda gli spallacci, questi sono composti in una sezione abbastanza ampia, quindi non avremo punti di pressione e il peso sarà ben scaricato. Per quanto riguarda il materiale, anche questo è molto morbido, molto confortevole e anche traspirante, ci siamo trovati bene. Sì, sì, poi sempre grazie alla tecnologia free float che presenta anche sullo schienale gli spallacci non danno fastidio, davvero non danno fastidio e quando dobbiamo sollevare le braccia non sentiamo uno spallaccio che ci taglia il collo o la spalla, quindi fatto molto bene. Continuando per quanto riguarda gli spallacci, qua troviamo classica chiusura pettorale, molto semplice, molto classica, con la presenza del fischietto. E poi nella parte dello spallacci di sinistra c'è anche la possibilità di andare a riporre gli occhiali da sole con una tecnologia studiata da Gregory che, cioè, lavora bene. Io c'ho riposto i miei occhiali quando uso gli occhiali da sole, quindi funziona abbastanza bene. Continuiamo a parlare dello zaino passando alla parte posteriore e in particolare analizzando un lato dello zaino. Nella parte inferiore troviamo la solita classica tasca per riporre la borraccia. È un tessuto in mesh abbastanza resistente ed elastico, quindi anche per borraccia di un litro o un litro e mezzo non avremo problemi. E poi ritroviamo due cinghie, di cui una non apribile, quella vicino alla tasca della borraccia, e un'altra apribile con clip. La cinghia inferiore, quindi quella non apribile, è stata particolarmente studiata da Gregory, infatti l'azienda è andata a risolvere un inconveniente presente invece in tanti altri zaini, ovvero il fatto di avere la cinghia che andava sopra la borraccia, impedendoci tante volte di prenderla. In questo caso invece la cinghia è incorporata dentro la tasca e quindi questo fa sì che noi possiamo andare a comprimere lo zaino, però la borraccia sarà facilmente destraibile. Sì, precisiamo che la borraccia riusciamo a prenderla da soli ma non riusciamo a metterla all'interno. O meglio, si fa particolarmente fatica, è più semplice o tirare giù lo zaino o farsi aiutare. Esattamente, invece per quanto riguarda la cinghia superiore, questa è dotata di clip, ci serve nel momento in cui dobbiamo andare a restringere la capienza dello zaino perché magari è un po' vuoto. Lavora bene, quindi soddisfatti. Passiamo ora a parlare della parte posteriore dello zaino. Qui troviamo una comodissima tasca a rete, chiusa da una clip che chiude solamente questa tasca. È molto comoda, elastica, lavora bene. Noi apprezziamo tanto questo tipo di tasche perché ci si può riporre dentro la secondo strato o una giacca impermeabile e la si può prendere alla svelta nel caso ce ne sia bisogno. Quindi questo tipo di tasca è sempre molto apprezzata. Per quanto riguarda la possibilità di portare dei bastoncini, possiamo portarli ma tutti e due messi nella stessa asola e anche qua, secondo me si poteva benissimo mettere due asole e sarebbe stato anche meglio. Gregory dice addirittura che si può portare anche la piccozza. Sì, si può fare, ma tutto sempre all'interno della stessa asola. Avessimo avuto un'asola a destra e un'asola a sinistra sicuramente sarebbe stato meglio. E considerato il litraggio, soprattutto da questi qua a 35 litri in su, abbiamo anche la possibilità di aprire lo zaino con una cerniera diciamo a forma di U che va a permetterci di prendere il materiale all'interno posto nella parte bassa. Per intenderci lo zaino quindi non è diviso in due scomparti ma abbiamo questa apertura a tutto zaino. Infine per quanto riguarda l'altro lato è simmetrico a quanto aveva descritto prima Sara, quindi abbiamo una tascarette per la borraccia, due cinghie di chiusura, quindi è ancora identico a quello che ha detto lei prima. Passando a parlare del cappuccio troviamo la solita tasca esterna con la cerniera molto comoda, abbastanza ampia e raggiungibile anche da soli, quindi molto comoda nel momento in cui dobbiamo andare a prendere qualcosa in movimento. E infine un'altra tasca posta all'interno del cappuccio che poteva essere una bella tasca, non fosse che Gregori ha deciso di mettere lì anche il rain cover, andando quindi a togliere un bel po' di spazio che poteva essere a disposizione. Infine per quanto riguarda la chiusura superiore dello zaino, questa è molto classica, composta da un latch da andare a tirare e lo zaino si chiude, da andare a tirare le due estremità dello zaino e si apre. Troviamo inoltre anche una cinghia passante con il quale potremmo andare a fermare una giacca o addirittura anche una corda, quindi possiamo portare anche del materiale in più. Lavora bene, nulla da dire, funziona bene. Per quanto riguarda i materiali, questi sono solidi, ci siamo trovati bene sia dal punto di vista proprio del tessuto. Ricordiamo infatti che il materiale è ripstop 400D, quindi davvero molto resistente. Noi abbiamo strusciato contro alberi e rocce e gli zaini sono ancora nuovi. Troviamo delle cerniere che sono anche queste solide, scorrono bene lungo i binari, quindi veramente ottime. E anche le cinghie sono robuste e svolgono egregiamente direi il loro lavoro. Per quanto riguarda invece il comparto acqua, come vi dicevamo c'è la possibilità di portare due borracce nella parte esterna con le taschine a rete. Lo zaino è compatibile con la sacca idrica, con la possibilità di far uscire la prolunga sul davanti. E come dicevamo c'è anche il rain cover che va a coprirlo, però attenzione che se portiamo qualcosa all'esterno non lo copre, perché il rain cover è abbastanza aderente allo zaino, quindi se abbiamo fuori qualche materassino o qualcosa, non riusciamo a coprirlo. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Gregory Zulu e Iade. Vengono venduti entrambi a un pezzo di 180€ ufficiale Gregory. Online si trova più o meno sui 150-160, qualcosina in meno. Ve li consigliamo? Sì. Sì, noi ci siamo trovati veramente molto bene. È uno zaino con il quale si può fare sia un po' di escursioni giornaliere sia escursioni di più giorni. Per quanto riguarda lo schienare Free Float lavora bene. E anche per quanto riguarda la struttura dello zaino, le tasche che ha, eccetera, direi che lo consigliamo. Sì, assolutamente. Detto ciò ragazzi, noi ne abbiamo speranza sessati esaurienti e sostivi anche per questa recensione. Vi ringraziamo per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!